All'adenso di San Salvo si è votato il rinnovo dell'RSU, praticamente la situazione a livello numerico è rimasta la stessa rispetto alla situazione precedente. Certo, i lavoratori hanno premiato il lavoro fatto dalla precedente RSU, pertanto 4 RSU alla Wilm, 4 RSU alla Fismicis, 3 alla FIOM e 1 al Fismic. Le organizzazioni rimangono soddisfatte, qualche voto in più per tutti e stiamo bene. L'adenso però vive un anno che spartiacque perché il mondo dell'automobile sta cambiando, si vira verso l'elettrico e dunque bisogna intercettare questo nuovo mondo che avanza. L'adenso del 2018 dovrà decidere dove fare investimenti sull'elettrificazione, per cui noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è la concorrenza a livello europeo con stabilimenti presenti in Spagna e in Ungheria e il nostro che sta a San Salvo. Per cui il giapponese deve decidere dentro questo anno dove fare investimenti e soprattutto su quale stabilimento allocarlo, questi nuovi investimenti sull'elettrificazione. L'altro problema invece viene dal passato. Noi abbiamo un prodotto ormai vecchio che è quello dell'alternatore A115 che occupava circa 150 addetti. Purtroppo se andiamo seguendo il mercato il vero rischio è che ci troveremo a breve non solo con quelle eccedenze di personale, ma ci troveremo con un nuovo prodotto se lo acquisiamo dell'elettrificazione che avrà bisogno di meno manodopera. Ecco, l'invito alle istituzioni a muoversi per tempo, a non aspettare che il problema si presenti. Assolutamente sì. La politica di presentarsi al capezzale delle aziende morte o decotte in chiusura diventa veramente l'aberrazione di chi vuole fare politica, di chi vuole amministrare una regione così importante. Per cui noi dobbiamo incalzare tutti insieme i sindacati, istituzioni, politici, i giapponesi affinché decidano di puntare su San Salvo e lo stabilimento denso della provincia di Chieti. Stabilimento denso che è strategico insieme alla Pilkington per quell'area? Pilastro portante dell'economia vastese. Bisogna stare molto, molto attenti. Per cui alla regione Abruzzo va mandato un chiaro messaggio. Bene tutte le attività che sono state fatte fino ad oggi, seppur i risultati delle vertenze sono sotto gli occhi di tutti. Ne abbiamo risolte ben pochi. Per cui in questa fase bisogna anticipare e investire prima per poter garantire continuità occupazionale e produttiva non solo la denso ma tutti gli stabilimenti presenti sulla nostra regione.